C'è in questo momento un corso molto importante che ELIS sta sviluppando con l'aiuto delle istituzioni è quello di cercare di dare una mano in particolare alle categorie predette. Questo è un fatto molto importante, questa è una bella idea, speriamo che questi risultati, anzi ci auguriamo, li vogliamo lavorare perché questi risultati siano più ampi. L'azienda ha degli obblighi rispetto alle assunzioni di questa categoria, o spesso non rispetta questi obblighi proprio per questo timore di andare ad attingere personale o risorse in questa categoria, magari neanche formata. Questo tipo di formazione potrebbe far sì che l'azienda eviti magari delle sanzioni economicamente forti. L'ELIS ha messo in movimento una macchina con un obiettivo difficile ma che sicuramente si raggiungerà. Il corso è di sei mesi in tutto, due mesi viene fatto in aula, quattro mesi viene fatto in azienda, quindi con attività di training on the job, e questo permetterà poi ai ragazzi di entrare in un'azienda in grande crescita e che per loro sarà un'opportunità di fare carriera come tutti gli altri. Il corso intrapreso dall'associazione ELIS credo che sia una grossa opportunità per le persone con disabilità. Si individua la persona con disabilità che va preparata, che va formata e poi si colloca in azienda. Questo al 90% sarà un inserimento a buon fine, che porterà da un lato le aziende ad avere una convenienza economica nell'assumere disabili, gli enti formativi ad assolvere il loro compito di formazione e le persone con disabilità a trovare una dignità nel lavoro che li accompagnerà per tutta la vita.